Forse non è un po' diversa, vorrebbe magari lei, se mia madre ha aiutato a lei a ritrovarsi, no? Qualche' non è un po' che ha fatto la nuova? Bene, aspettando allora la sentenza dell'assuncio, io vi leggo una delle tante mail che sono arrivate a proposito della mail che abbiamo letto, stava di vita. Allora, mi ricordate che ho letto da me una signora che diceva che la sua vita è distrutta da questa crisi, lei non lavora più, non lavora più il marito, non dice che uno non riesce a lavorare, l'ha fatto che deve andare quando sono a casa e sono arrivate questa signora che aveva scritto una verità con grandissima unità, veramente ci ha convinto, moltissima tristezza, moltissima rassegnazione e noi avevamo detto che non si deve rassegnare ma deve reagire e rilontare esattamente come avrebbe potuto rilontare Antonella tanti anni fa per c'è scritto questo signore.